attraverso il comando file esporta è possibile esportare il modello corrente in vari formati tra cui quelli utilizzati dai principali programmi di disegno abbiamo varie opzioni per la creazione del file di output ad esempio per le travi e bielle possiamo chiedere l'esportazione come wireframe oppure tra le altre come oggetti solidi, quindi con facce 3D vediamo ad esempio questa modalità tra i vari formati scegliamo ad esempio il DXF premiamo ok scegliamo il nome con cui salvare questo file e andiamo a vedere cosa è stato creato vediamo il modello rappresentato con oggetti solidi a facce 3D correntemente è mostrato un rendering, il file era già stato aperto in precedenza per guadagnare un po' di tempo torniamo in Sargon e analogamente all'esportazione c'è un comando che consente di importare una mesh fatta altrove, ad esempio nel formato appena visto DXF si va di bene che non si importa un disegno ma il file DXF che si importa dovrà essere pensato come una mesh per informazioni dettagliate si rimanda alla guida è anche possibile creare delle tavole del modello definendo degli allineamenti opportuni vediamo un esempio potremmo definire un allineamento cliccando 3 nodi che definiscono un piano in particolare il piano di questa facciata un piano verticale con il comando disegna fili fissi possiamo aggiungere il piano definito da quei 3 nodi con il bottone aggiungi via selezione vediamo che è stato aggiunto un piano con meno y uguale a meno 6.000 che è appunto la coordinata dei nodi appartenenti a questo piano potremmo anche aggiungere dei piani attraverso la definizione delle varie equazioni in questo esempio ne aggiungiamo solo uno clicchiamo ok a questo punto col comando disegna genera membrature facciamo in modo che vengano generate le membrature su tutti i fili fissi definiti e infine possiamo generare le tavole attiviamo i fili fissi che vogliamo includere in questo caso appunto ne abbiamo uno solo definiamo le impostazioni e infine clicchiamo ok anche qui abbiamo già aperto in precedenza il file vediamo che è stata creata una tavola dove sono presenti le membrature con i loro ingombri e delle etichette con le informazioni ad esempio quelle sul materiale o sulla sezione è stato creata una tavola Grazie.